Cari amici, celebriamo la Pasqua del nostro Salvatore Risorto e allo stesso tempo ci troviamo in mezzo a questo nuovo fenomeno pandemico del coronavirus. E abbiamo paura. Ci avvolge tristezza e disperazione a causa della gravità travolgente e della crisi e a causa di perdita di tante vite umane. In particolare, pensiamo alla morte dei nostri cari, conoscenti, familiari infettati da questo virus. Chúa Jisù, Người đã sống lại từ cõi chết, và Người đã đánh bại mọi nỗi sợ hãi sui chết, và Người luôn ở cùng với chúng ta, Người tiếp tục banche chúng ta sức mạnh de tìm tù, và biolo chien thang của Người trên mòi nỗi sợ hãi, và kai chết. Ghiền mì Sa presenza, che da joia e amor e anche aיכte nutrible che soffrono le persone che soffrono in le persone e in ospite. Crediamo fermamente che i nostri amici ottenere la vita eterna, perché il Cristo risultato dei morti risuscitare anche con loro nella vita eterna. Il Cristo risultato dei pazienti Non perderemo di prezziare i pazienti per i pazienti, per i pazienti per i pazienti, per i pazienti per i pazienti per i pazienti per la pandemia e salvare la vita di altri. Il Cristo risultato dei pazienti Poi ricordiamo tutti quei persone of Goodwill Who in all possible ways and means render help to all those especially the most vulnerable and helpless in these terrible times Especially the poor the scattered the unemployed And abandoned che possiamo essere sempre uniti e essere fieli a Gesù risultato nostro Signore. Amén.